da ballo anch'io a oltre la danza eccoci qui è passato più di un anno dall'avvio del nostro progetto un anno partito alla grande ma che si è trasformato in seguito all'emergenza sanitaria causato dal covid-19 in un anno difficile ma nonostante ciò tante cose sono state fatte lezioni spettacoli esibizioni incontri nelle scuole grazie a tutti il lockdown non ha fermato la nostra passione e tramite la piattaforma zoom siamo riusciti a continuare le lezioni e a ballare insieme distanti ma uniti grazie a tutti 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 giù la testa vinci giù la testa sotto no 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 bravo bravo vinci bravoova vinci vinci gira saluta Questa è la quarta campionata 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 Sì, 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 sì. Grazie. Bravo Vinci. Grazie. 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 Anna. Grazie. Grazie. Sì, stai bene, stai bene, stai bene. Mani sinistra sulla spalla, apri le spalle e inchiuto i bordi. E apri le spalle e inchiuto i bordi. E apri le spalle e inchiuto i bordi. E apri le spalle e inchiuto i bracci fuori. E apri le spalle e inchiuto i bordi. E aprile e inchiuto i bordi. E apri le spalle e inchiuto i bordi. 23 ottobre 2020. L'aggravarsi dell'epidemia e il nuovo DPCM ci hanno imposto di chiudere la palestra e i corsi in presenza ancora una volta. Ma nonostante ciò continuiamo a coltivare la nostra passione per la danza anche da casa. Perché nelmeno il Covid può spegnere i nostri sogni.